ciao a tutti e benvenuti in nuova serie i gladiator di sciocco per telefono e sarà una serie piccola perché facciamo solo la storia che non è grandissima ecco storia cominciamo è un'antica roma sta cosa è in latino si le animazioni non sono fatte perfette ma va bene eh si sentire latino è un po strano vero già già io l'ho già visto quindi ok si ma accelero nego e non mi ricordo benissimo i comandi ok così si colpisce così si avessi colpisce così ok tutti verso l'alto e così si parla va bene ho capito capito si non è si va beva così non me ne ricordo e vai già un braccio via e un altro me l'ha già locato si ok ok va bene va bene ma don me lo fa aspetta 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 che mi dava aspettate ah avrei capito capito che ho restardito è impremuto per fare un attacco e scendola testa questo qua è solo il tutorial ah si si ok così corri tenendo premuto scudo corri allagga abbastanza neanche tanto come pensavo ok due adesso bastardoni questo qua che clicca almeno faccio già la combo che lì decapita in grammi fatto non è difficile qua c'è la gloria e che ti danno che soldi ora ecco l'un altro ma ma mi sta ignorando non è morto ma è con questo amore è infatti bello oh puttana adesso ti decapito io aspettate con questo qua li decapito anche la famiglia potente gloria guarderà la testa che rotola così bisogna andare a un altro combo più perfetto ma che sono dopo anche lo scudo ma do uno dietro l'altro li facciamo fuori no 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 si si vado con tutta sabita cosa vuoi farmi ecco sono stordito si qua al posto di farmi l'attacco potente mi stordiscono e basta no 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 indietreggiamo indietreggiamo tutti contro di me quindi se non lucido con questo questo qua è morto non mi attacca nemmeno è determinata e non è più determinata gloria ok area verde qua se non sbaglio c'è il boss del tutorial o no ah si si c'è il boss cazzuto almeno sembra benissimo si si ok lo so lo so come si schiva madonna miglia il tutorial e non mi ricordavo più come si attaccava staccami oh tutti gli ho schivati scarsetto come si chiama spiculus ah spiculus dai dai si è morto è andato ok e ora dai ve li leggo io perchè il latino non si può sentire caricamento dai e non carica dai ok ora si alza non muore dai e muore dai fallo fuori e sparmi lo dimostra compassione la mia compassione è una merce rara eh dai è perciò costruito eh vabbè ma ti sei fatto in culare così come un pirla dai ecco bene il tuo destino è segnato stupido salutate tutti il nuovo campione sì campione però è stato stronza eh ammettilo cioè una vittoria così ti meriti la retrocessione ah nerdila come vi dicevo un'altra eh ma non pensare di imbrogliare mercurio o ti getterò in pasto cebero eh già lì non ci penso qua però come puoi ascolta sto portandoti un carico di anime c'è anche un radiatore un certo arufus che siamo noi perchè non scommettiamo la sua anima perchè mai dovrei farlo e non è nemmeno permesso scommetto tutto quello che ho vinto oggi la madonna vedi giova è già su di giri per questi giochi tra gladiatori e tutti gli dèi si stanno facendo beffe di me perchè non ho un campione ma chi mai potrei scegliere per quel ruolo chi sono i miei fedeli cambiavalute ribenditore di bighe usate che non hanno mai tenuto in mano una spada eh sì è vero e ladri si vabbè è uno sciocco plutone non hai niente da perdere io partecipo ma questo tizio muirà due volte e tu avrai il mortale abbastanza presto hai visto i campioni quest'anno? c'è il... eh 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 ok ho metto la sua moneta da sepoltura tiriamo i dadi e il gioco d'azzarlo ci portano guardate come si bastardo devo andare ciao imbroglione cerbero non sei l'unico capace di imbrogliare mercurio che traolata il campione è tuo ma non sarà uguale a prima cioè che traolata e l'occhio di cebera è ancora aperto dai è inquietante chi odi l'occhio grazie e adesso? ah nello stige siamo e... eh cosa? piacere Rufus sono mercurio il dio del commercio e delle chiacchiere davvero? che cosa mai può volere un video da me? non mi credi? ecco ho passato giorni interi in posa per questa che cazzo ho una proposta per te sarai il mio campione nei prossimi giochi Rufus gli ultimi non sono andati gran che bene per me con tutto il rispetto faresti meglio a rivolgerti a qualcun altro hai tirato le cuoie lo so capita a voi mortali io però insisto io cosa ci guadagno? non sanno fare le facce se vinci potrei rimandare questo viaggio per un po' riesci a immaginare qualche affare non ancora concluso? di cui occuparti no? è quello che il navigatore è là che questo qui non ha pagato il suo passaggio non chiedo si ora si incazza non si viaggia a sbaffo fino alla casa di Plutone e ora credo che siamo e ora? è stato un sogno? ma com'è che siamo finiti qua di nuovo? abbiamo cambiato i capelli? mi sento tanto debole qualsiasi cosa trovi bisogno te la posso procurare ma tutto a un prezzo anche io devo poter guadagnarmi da vivere capisci? ma vieni a trovami quando vuoi nell'arena la sopravvivenza del più adatto i giochi è ben inizio eccomi qui di nuovo e quindi ricominciamo da capo facciamo la prima e si laboratorio va bene va bene va bene ho capito queste sono anche le sfide per questa battaglia ah siamo nudi con la classica spazi si nudi davvero quasi no non ha funzionato dai e anche la stamina va giù qua e mi sbagli gli attacchi e credo che sia morto ora no bastardo aspetta ma non buttarlo giù uno due tre e quattro si morto morto abbia completato su qua anche ok non colpita a me mi ritiro guarda lì tutti da me vanno no 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 cazzone e questa qua non si resiste visto aspetta eh potete mandarmi una spada eh a volte ti tirano anche spade e questo qua non credo sia difficile due tre e qua e qua uno due ma perché non l'ho svembrato scusa ah si vabbè se ho bisogno di un potenziamento ma non mi serve compra le pozioni di salvia ah ok si sta qua i rati configgito i nemici va bene ma una spada migliore o qualcos'altro che i ganker i ganker ah si è vero qua per fare il bastardo ah tanto chiudi questo qua sta fermo allora così uno due tre quattro questa credo che non resisterà eh ma eh si è resistito morto gloria matta finalmente e qua e qua aspetta 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 che carico colpo ma gli ho spaccato la testa e anche a te adesso è volata la testa è ben vinto questa è la prima battaglia ora capite com'è il gioco bene abbiamo anche un punto abilità potenziamo l'attacco attacco attacco vabbè capite com'è il gioco questo qua è il primo episodio porterò sicuramente avanti questa questa serie perché perché si volevo sempre farla e quindi alla prossima ci vediamo ciao a tutti